ole welcome to the jungle eccoci qui ragazzi ma ragazzi ma che filpa ha nello ma che ne so ma che ne so è due settimane che non ti vedo da quando hai installato club è un po' che non ti vedo come sei uscito con questa filpa cosa è successo sto degenerando giorno dopo giorno è la quarantena o stai pur uscendo con questa filpa no 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 sono uscito solo per san valentino fashionello ma io non lo capisco guarda non lo capisco buonasera ragazzuoli buonasera questa è la nostra bad influence la prima volta che ho conosciuto nello giacca cravatta camicia come si chiama il coso sulla pochette qui sul taschino il mocassino c'era anche il cappello il cappello il bastone no il cappello lo usi tu la pipetta la pipetta ma buonasera amanti della casa del club ciao ragazzuoli allora dobbiamo organizzare pure una bella una bella clebbata allora ragazzi montemagno numero uno di clubhouse con tipo 85 mila follower assurda fucking crazy sì sì veramente io ce l'ho ho 7k follower quindi sono uno dei top influencer di clubhouse in questo momento oh ma non ho idea di quanta gente ho conosciuto è veramente una figata molto molto interessante io ho preso persone che chiedevano di servizi praticamente non ho capito in che senso prendendo facendo dei dei servizi dei servizi del degli interventi poi iniziano ad aggiungerti persone ti inizia a contattarti c'è poi chiedono 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 no non è che mi hanno chiesto mi hanno chiesto delle cose per fare delle collaborazioni però non c'erano i presupposti dal mio punto di vista quindi le ho dovute rifiutare sì 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 allora il benvenuto a tutti i nostri amici che sono qui con noi questa sera dopo un botto di tempo che come dice jack qui posso parlare sono 17 anni sì qui si può qui si può anzi io proprio nello spirito di clubhouse mi piacerebbe proprio portare le persone sul palco portare le persone qui a parlare va bene allora da dove partiamo nico da dove si parte possiamo annunciare che ufficialmente aperta la landing per iscriversi alla nostra super focus class riguardo facebook advertising lo possiamo dire sì e lo diciamo obbligatorio obbligatorio anche perché noi come al solito dobbiamo ringraziare il nostro sponsor come si fa da buoni creators il nostro sponsor che è nord no scherzo il nostro sponsor è creators academy quindi lo diciamo con orgoglio perché è un progetto in cui lavoriamo tutti e tre e quindi tanta 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 roba ci avete abbandonato per clubhouse ma vi posso dire ragazzi che su clubhouse faccio le stanze con 200 persone di solito e ce l'ho da due settimane e qui ragazzi per arrivare a 200 persone avete fatto penare un anno cioè un anno di ore 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 e ore e ore e ore quindi evidentemente il pubblico degli argomenti nostri sta su clubhouse e non sta su twitch questo è una considerazione che c'è da fare e proprio per questo domani facciamo una bella una bella clabbata quindi per chi è su clubhouse domani ho organizzato l'uprezia ora vi dico a che ora perché ho qui eccolo qui domani a ore 21 ore 21 ore 21 su clubhouse domani ore 21 allora è un po' differente anzi è molto differente clubhouse da twitch molto 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 differente perché perché è molto differente perché chiaramente twitch nasce come tv in cui qualcuno parla e molti ascoltano mentre clubhouse nasce come un social podcast potremmo dire quindi un podcast in cui tutti possono intervenire basta alzare la manina e uno entra e può parlare e quindi diciamo le room che stiamo facendo le stanze che stiamo facendo almeno fino in questo primo momento sono tutti parlano e quindi cerchiamo di far parlare un minuto per uno più persone possibile e poi quando partono argomenti interessanti si approfondisce quindi botte risposte uno dice una cosa uno dice un'altra e quindi diventa una cosa comunque molto interessante però sai a volte per poter esplorare dei discorsi bisogna pure avere il tempo per parlarne quindi questa la mia critica clubhouse è che che poi non è la critica clubhouse diciamo che è più diciamo il punto negativo il minus del modo di utilizzare clubhouse che stiamo facendo adesso ovvero la cosa bella è che fai parlare tutti la cosa brutta è che se parlano tante persone è difficile andare in profondità negli argomenti esplorare sì 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 diciamo l'altra volta il bello e il brutto della democrazia come nello il bello e il brutto della democrazia esatto esattamente 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 no vabbè ci sta ci sta clubhouse come la zonzara e crociani sarebbe divertente c'era ora è molto è molto carina abbiamo parlato anche di questo è molto coinvolgente è molto coinvolgente devo dire sì 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 come fa stare ore ore lassù ma io poi e io non so come fa a stare in due tre room allo stesso momento no no uno eccolo qui vedi sto qui sono ancora dentro questa room tra l'altro perché adesso stanno ho gli altri non si vede aspetta che no l'altra volta mi è capitato di vederti di vederti in due room in contemporanea vedi guarda ci sono 196 persone adesso vedi eccomi qui io sono questo qui con la testa rovesciata vabbè e quindi come vedi cioè qui abbiamo 50 60 quanti siamo una sessantina di persone di là ce ne stanno 200 quindi ovviamente ah c'è pure l'hype train qui ragazzi c'è l'hype train scusco e poi vi dico una cosa che dato che clubhouse vuole creare un modello come twitch io credo che per noi creatori di contenuti per adulti diciamo vabbè ora siamo 600 ragazzi ma perché un anno che facciamo le live vi abbandonate vado a vedere lezioni di nello ma è qui nello grande grande lezioni sul biglio credo ovviamente sul biglio allora per tutti quelli che ci seguono nei social in cui si schiacciano i cuoricini mettete i cuoricini ragazzi cosa state aspettando come strano arrivare il mio nuovo nome è gigi b cioè ho fatto questo rebranding che ma lo sai che cioè beh questo ve l'ho raccontato però magari qualcuno non lo sa a me da piccolo i miei mi chiamavano gigi cioè sempre chiamato gigi poi sono andato alla scuola militare a milano e tutti mi chiamavano e tutti mi chiamavano Già Gian Gian Già Gian Già allora ho detto Gian addirittura e quindi ho detto vabbè teniamo Gian che mi piaceva e Gigi mi ricordava quando ero piccolo ha capito poi c'è Gian Gian Jian Già ok sì allora guru di Clebaus oggi ti facevano la corte ragazzi in diretta una social media manager pure molto forte ha detto che è innamorata della mia voce wow Gigi, visti i freddi e i social per adulti i social per adulti sì 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 allora, visto questa cosa di Gigi poi esploriamo per adulti, quindi tutte le volte che poi io avevo mia mamma tipo da qualche parte che mi diceva Gigi, io, ma non mi chiamare Gigi che non mi piace Gigi, non mi chiamare Gigi e quindi, ah intanto qui l'hyp train continua, ragazzi forza 96% un minuto che passiamo a livello 2 forza, bravo, vai 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 andiamo con l'hyp train vai stream elements vai stream elements mi ricordo alla fine la gente diceva ma chi è sto stream elements non capisco chi è questo stream elements no vabbè, quindi alla fine invece stavo cercando di capire perché dato che ora su Clubhouse parlo pure in inglese Gianluigi, già gli italiani mi chiamano Gianluca Gian, Gian tutti i nomi fanno, no? Gian Piero, Gianluca, Gian Francesco Gian Marco Gian Stefano, eccetera Giannello Giannello, esattamente tutti quanti e allora ho fatto pace con queste attenzione che siamo olè passati al live train livello 2 grandissimo Bobbo io sono Gigi C e quindi ho detto sai che c'è basta mi faccio chiamare Gigi però Gigi non bastava perché sai Gigi ok Gigi ci possono essere tanti Gigi ma c'è solo un GGB GGB e poi sono le iniziali del mio nome GGB e quindi c'è e ci sta come dice Otto il passerotto ci sta Nello parlaci dei contenuti per adulti è della pelpa fucsia ma non si parla dei contenuti per adulti i contenuti per adulti si guardano allora Nico ok qui tutto a posto allora Nico volevo chiederti ci racconti un attimo dato che oggi abbiamo messo un tema anche per ricominciare perché è un po' che non parliamo con i nostri amici qui su Twitch e abbiamo messo un tema un po' ampio anche per avere un po' di domande e risposte imprenditoria e-commerce e poi aspettate non mi ricordo e business online per introdurre questo argomento volevo dire che un po' il cuore del business online è quello che è uscito oggi con la focus class di cui sei il docente già diciamo che diciamo che business online è enorme Bobo Casti già subscribed ciao Bobo Casti grande Bobo non è semplicemente lanciare il business online quindi le persone spesso pensano che semplicemente faccio un sito che ci sta per carità faccio un e-commerce che ci sta per carità però alla fine bisogna mandare gente su questo business online su questa finestra su questo sito su questi e-commerce su questa landing quindi per mandare finestra per mandare gente su questa finestra per mandare gente su questa finestra è bisogno delle fonti di traffico ok e ci sono due strategie o lo fai in organico o lo fai a pagamento e per farlo a pagamento hai bisogno di appoggiarti principalmente a facebook quindi allo strumento facebook advertising e noi di creators abbiamo pensato di strutturare una super focus class perché dico super perché in realtà non è una non due ma sono tre perché l'argomento è davvero grande e abbiamo pensato di strutturarla su tre fasi posso dire una cosa dico vai come no allora praticamente doveva essere una masterclass solo che dato con le masterclass noi partiamo da un budget le masterclass per scelta editoriale non sono mai meno di mille euro proprio perché sono valanghe di ore doveva essere una masterclass ma per poterla rendere accessibile a tutte senza deposizionare appunto il nome di masterclass abbiamo deciso di fare tre focus class quindi tre corsi su facebook che sono base intermedio avanzato che sarebbero una masterclass quindi questa è mi permetto di dirlo la prima masterclass che abbiamo messo a una quotazione che non è quella delle masterclass ma è molto 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 inferiore ma ragazzi attenzione perché sì sono tre focus class base intermedio avanzato però sono proprio ideutiche che cosa vuol dire vuol dire che se ovviamente non sapete le basi anche se andate a fare quello del livello avanzato non riusciresti a farla come dovresti quindi automaticamente essendo proprio ideutiche l'abbiamo suddivise solo per una questione di semplicità e di capacità di apprendimento perché sono tantissime nozioni e andiamo ad approfondire quelli che sono gli aspetti in modo singolare fino ad arrivare a dei framework testati per impostare le proprie campagne e farle schizzare alle stelle cioè il senso è utilizzare uno strumento potentissimo come in facebook advertising nel migliore dei modi qualunque sia il tuo tipo di business perché andremo a parlare non solo delle strategie che già spiegate nel billionaire e appena introdotte su scalers ma tocchiamo l'argomento un pochettino in modo più ampio perché facebook advertising è uno strumento che si affaccia a diversi tipi di impresa non solo online ma anche per le imprese offline quindi c'è da capire un pochettino quali sono i diversi obiettivi proprio e tutti quelli che sono i vari strumenti all'interno del business manager che è enorme da lì l'obiettivo della focus class è far sì che facebook non abbia più segreti in modo tale che voi possiate poter impostare la vostra strategia la migliore strategia adatta al vostro tipo di business allora perfetto grazie Nico poi avremo modo sicuramente di approfondire più avanti intanto vogliamo dedicare vediamo subito sono già aperte le iscrizioni io sono rimasto un po' sì ti ho girato il link su whatsapp praticamente poi c'è stato un po' un casino perché ieri ero stra-uforico e ho postato il link su instagram le persone sono iniziate ad entrare e non si ritrovavano poi hanno dato messaggi all'assistenza mi ha scritto lunghezza e mi fa Nico togli il link perché qua sta succedendo un casino e poi praticamente da oggi è ufficialmente aperto e l'iscrizione alla focus class ah mi dice streamer da perso access vediamo che devo fare ok scusate sto facendo sto mandando il link ragazzi dovrebbe essere arrivato sul twiccione e ora ve lo sparo sono veramente euforico esattamente però lo sparo pure su non so perché non me lo fa andare su facebook non fa niente sono l'unica a voler sapere il segreto dei boomer aiaiaiaiai allora una cosa per volta siamo qui per rispondere a tutte le domande come diceva Roy si puoi fare qualsiasi domanda sul business non solo sulle facebook ads se volete fare domande sulle facebook ads sul traffico in generale andate pure sono riferite solo a business b2c o b2b allora in genere dico pure una cosa giacchi che in genere b2b si scrive b2b e b2c che magari se no non si capisce però bitcoin infatti bitcoin l'ho diciamo reinterpretato dal contesto b2c si scrive col 2 ok sono per entrambi b2c e b2b il buon Andrea dice compro subito sono un infermiere mi sto cambiando i turni in reparto per seguire in diretta tutte e tre grandissime Andrea adoro adoro quindi ti stai cambiando i turni per seguirle tutti i sabbati fantastico ciuff ciuff qui hanno vinto hanno vinto l'emoticon del oh le voglio pure io queste come si fanno a prendere eccole qui ole del live train ciuff ciuff allora nico che vino bevi sono veramente fuori con nico sono veramente nell'orico buonasera giovinotti l'unica potenza per il segreto l'atto l'atto ok 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 allora vai nico andiamo avanti allora ragazzi se ci sono domande fate domande mentre facciamo ciuff ciuff comunque per rispondere alla domanda del B2B del B2C allora tendenzialmente non tendenzialmente ti dico assolutamente di sì perché comunque il modo anche perché noi abbiamo deciso di andare a fare questa focus class perché l'algoritmo di Facebook cambia le strategie cambiano noi di creators puntiamo non a dare delle semplici strutture copia e incolla ma nel far capire lo strumento in sé per sé perché nel far capire proprio per il fatto che l'algoritmo cambia una volta che tu capisci come ragiona quel tipo di algoritmo sarai tu stesso a trovare la miglior strategia per il tuo tipo di business ci sono centinaia di tipi di business diversi differenti quindi è impensabile andare a fare 100 masterclass all'anno e non siamo le persone che fanno 100 masterclass all'anno quindi proprio per questo motivo abbiamo strutturato questa focus class approfondita per spiegarti quelli che sono i vari strumenti all'interno di un macro strumento che è Facebook Advertising principalmente la focus class è indirizzata nel fartelo capire sì e non solo ma anche nell'andare a analizzare nel dettaglio quello che sta accadendo perché non è che tu investi in Facebook e Facebook ti restituisce delle vendite tu vuoi che Facebook ti restituisce delle vendite ma effettivamente ti restituisce dei dati se sbagli l'interpretazione di quel dato praticamente sei solo al 50% del potenziale di quello strumento ottimo ottimo allora nel frattempo dovrei avere condi oddio che ho fatto ho fatto una cavolata ma vedo poterti vinciate stasera ragazzi ma che è successo lancio un hashtag parlateci parlateci pensaci tu io penso che la persona che è mancata di più è Nello diciamo la verità cioè è inutile che ci nascondiamo dietro eccolo qua mi hanno appena mandato su Instagram questo complimenti hai appena effettuato l'iscrizione alla Focus Class grande Mario grande Mario ragazzi facciamo così allora fate uno screen a questa diretta postatela su Instagram taggateci i primi che ci taggano avranno l'invito su Clubhouse forza Nello se non c'hanno l'iPhone e se non avete l'iPhone Nello vi regalo un iPhone e l'invito su Clubhouse è vero se non c'hai l'iPhone che devi fare adoro vabbè allora intanto scusate non riesco ad aprire il link ora l'ho rimesso Maurizio vedi se ti funziona vediamo un attimo se funziona magari ce lo guardiamo pure madonna come è diventato complicato aprire il link su Facebook lo vogliamo far vedere al volo? ragazzi lo vogliamo vedere al volo io non ho ancora visto la landing di questo master allora allora fammi togliere qui la roba ok focus class vabbè vi posso condividere un Clubhouse già installato anche dietro un Clubhouse installato e vi dirò di più se hai mandato un cuoricino oltre a tag anche il follow di Nello ragazzi voglio diventare amico di Gigi condivido ovunque ah grande Domenico Domenico ragazzi ho beccato dappertutto ne ho parlato pure su Clubhouse sta grande Domenico Domenico è squadra ormai la landing chi l'ha fatta Fra no ragazzi ah sì perché il landing Fra va a fare le landing sì anche ogni tanto ho da fare il landing almeno una volta al giorno vabbè dopo questo Amaro Lucano allora consigliate la focus class anche per chi sta studiando il billionaire e scalers sì su scalers perché la focus class è inclusa nel livello imprenditori di scalers ragazzi ok quindi la focus class è stata strutturata proprio per tutto il pacchetto di billionaire e di scalers assolutamente sì allora 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 sì poi il detto napoletano ragazzi alla fine già ti sento più di mio figlio vediamo col detto va a fare le landing is the new va in punizione no vuol dire un'altra cosa vai a fare le landing vai a fare vai a fare vai a fare questo è il senso questo è il senso allora vediamo se riesco a condividervi la landing quella vera cioè la vera è proprio la landing ok dovremmo averla eccola qui scu 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 come fare pubblicità che convertono con facebook per avere più vendite e più clienti in tutti i settori come abbiamo detto poco anzi proprio perché andiamo a toccare quelli che sono i vari i vari strumenti all'interno di facebook ads in modo approfondito ok andiamo andiamo giù lezione in diretta più sessione domande e risposta ovviamente allora la lezione la faremo su zoom si su zoom facciamo le lezioni va beh andiamo avanti andiamo avanti poi rispondiamo a tutte le domande per chi è utile la focus class e-commerce business online vuoi guidare tu che sicuramente avrei contribuito a crearla questa landing si un attimo che allargo così ci vedo meglio allora perché è utile la focus class ovviamente ragazzi dovevamo inserire dei dei target no cioè non è che è per tutti ovviamente se non avete un business e non masticate un pochettino questo mondo qua si è indicata per voi però vi consigliamo il billionaire per questo per partire da zero questo è un pochettino più approfondito fino ad arrivare a livello proprio approfondito quindi è consigliato per chi ha un e-commerce o un business online ok per le strategie per migliorare le tue performance aumentare il ROI in modo efficace e rapido per imprenditori e professionisti per trovare potenziali clienti perché come vi spiegavo prima andiamo a toccare quelli che sono i vari strumenti all'interno di facebook ads e poi parleremo anche delle varie strategie ok e per marketer e studenti quindi masticando un pochettino questo mondo qua per te che sarai un futuro imprenditore digitale questa focus class è molto ma molto importante proprio anche per la velocità con cui si aggiorna questo tipo di algoritmo con cui si aggiorna questo tipo di strumento in modo tale da stare sempre permettetemi il termine sul pezzo ok e acquisire quelle che sono le competenze più ricercate al momento sul mercato Gianno andiamo giù allora eccoci qui no possiamo andare possiamo andare possiamo andare anche docente eccolo qui il nostro docente sono io ok questo sei tu ok niente ragazzi se volete vi parlo pure un pochettino come scritto là allora ho diverse attività accumulate un pochettino nel tempo da startup fallite dove ho acquisito il know-how dei business digitali quindi fallendo anche io fino ad arrivare poi ad approfondire questo mondo grazie alla Creators Academy come sapete ho fatto il billionaire ho avviato diversi commerce ho iniziato quelle che sono delle attività di consulenza per aziende fino a gestire queste aziende online e diventare quello che è un e-commerce manager quindi da lì ho avuto modo di approcciarmi con quelle che sono più realtà diverse realtà con diversi obiettivi non solo andare a vendere e quindi ho dovuto smanettare davvero tanto per capire quello che erano comunque gli strumenti principali da utilizzare e trovare le strategie giuste per quel tipo di azienda e il fattore proprio di aver collaborato con diversi tipi di aziende con diversi obiettivi ha fatto sì che sono riuscito ad acquisire diciamo un know-how un pochettino più ampio soprattutto su questo tipo di strumento ho avviato delle agenzie specializzate per il local marketing dove abbiamo dei partner attualmente in Svizzera e qualcuno in Italia è una piccola agenzia a Londra dove lavoriamo solo in performance quindi prendiamo aziende e brand che vogliono andare a fare direttamente e-commerce quindi là noi andiamo a gestire quello che è il budget pubblicitario messo nell'azienda per impostare tramite le nostre strategie ADV che imparerete all'interno della focus class le campagne e andare a vendere questo è chi sono ok questa focus class come abbiamo detto poc'anzi è pensata proprio per imprenditori freelance wannabe e per chi ha comunque un business online proprio perché andiamo a toccare ripeto per l'ennesima volta in modo approfondito tutti gli strumenti che sono all'interno di Facebook Ads quantomeno i più importanti quelli che quelli che ti servono e vi mostrerò Facebook Ads dal lato reale di un marketer parleremo delle strategie che Facebook stesso ha rilasciato delle strutture che Facebook ha rilasciato la cosiddetta S4S come andare ad impostare una corretta S4S che tipo di framework andare ad utilizzare e soprattutto anche come andare ad impostare la CBO i parametri della CBO andare ad analizzare i dati tramite quelli che sono gli strumenti di analisi all'interno di Facebook e come scalare le campagne ok questo è tutto il contenuto all'interno della Focus Class non so se mi senti chiedono Ricky a parte che voglio diventare amico di Ricky che mi fa troppo ridere grande Ricky dicono ma è utile per chi è nel billionaire ci sono info aggiuntive assolutamente sì Ricky non è un caso se noi abbiamo aperto scalers ok scalers serve per andare oltre il billionaire il billionaire serve nella fase di start e non solo ma scalers ti porta su un altro livello e queste sono delle focus classi riservate a livello imprenditori di scalers ok quindi essendo che scalers nasce per approfondire proprio questo mondo e portare l'imprenditore su un altro livello e billionaire fa parte di creators academy come scalers fa parte di creators academy facciamo interfacciare entrambe le cose andando ad inserire queste focus class mirate in modo tale da dare la possibilità alle persone di approfondire degli argomenti che preferiscono quindi assolutamente sì io amo il copy di marketing e presto tanto per quello che fate siete persone che lo fanno davvero perché amano quello che fanno serve un sodio per cui Gigi sa come trovarmi vi volo tam 100 grande domenico grazie dai domenico oh yes allora io credo che ha ragione Cinzia sarà uno spettacolo questa focus class io penso che la focus class più aspettata dall'apertura di creators è mirata buonasera Gianluigi constato che ad oggi siete più credibili rispetto alla marea di gente che sponsorizza su facebook allora io su questo un giorno ne parleremo perché veramente è un argomento molto interessante ma io sono convinto che nella long run cioè nel nel lungo percorso chi è veramente competente si vede anche se ci sono molti pregiudizi perché chiaramente magari mi hanno visto su un jet privato mi hanno visto con gli orologi d'oro mi hanno visto ragazzino che sembra che ho 12 anni ragazzi sono dell'87 ce ne ho 33 di anni tra poco supero pure l'età di Gesù Cristo quindi purtroppo ne ho viste parecchie e quello che anche il commista è credibile non so chi sia non vorrei fare dissing quindi evitiamo di di parlare di altri allora quindi ecco quello che voglio dire è che quello che stiamo cercando di fare col progetto Creators è proprio avere un un pool di docenti competenti io non sono un guru lo ripeterò fino alla fine non sono un guru non so tutto non so anzi magari non so niente so ho fatto tanta esperienza ma soprattutto ho avuto la fortuna di avendo creato un'agenzia di avere a fianco a me tante persone molto competenti di tanti settori diversi quindi ho avuto anche modo di imparare tanto lavorando con tante aziende e riesco a capire un pochino chi è più o meno competente nel mercato Cinzia dice Rolex d'oro e l'aereo privato non ha aiutato sicuramente però ragazzi cioè questa era la mia vita in quel momento quindi facendo vlog il vlog raccontava la tua vita e quindi raccontavo quello poi sicuramente non sapendo comunicare perché il mio più grande problema è che non sapevo comunicare sui social e piano 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 sto imparando cioè ora vedo che i miei video su youtube iniziano ad andare meglio molto mi ha aiutato anche twitch perché ho fatto così tante ore davanti alla telecamera ragazzi con voi che siete qui con noi che mi sono anche sbloccato un pochino perché alla fine la cosa migliore è riuscire a essere te stesso e io sicuramente non riuscivo a essere me stesso ma non perché prendevo il privato o perché vado in giro col Porsche o con la Ferrari o con l'orologio d'oro quello mi devo però per esempio ho scoperto che è meglio non farle vedere quelle cose lì perché fanno incazzare la gente e quindi basta cioè non si vedranno più io vado solo col mio Mi Band 4 eccolo qui e via è un po' il watch no no non è un po' il watch no non è così perché io sono così cioè ragazzi io vengo da una famiglia normalissima avevo 20 euro a settimana di paghetta a 14 anni cioè quindi insomma questa è la mia vita quindi io sono una persona normale e non sono cambiato cioè nel senso la mia esperienza non mi ha cambiato per niente c'è stato un periodo in cui non prendevo più i mezzi pubblici non prendevo più la metro e facevo un po' lo schizzinoso non prendevo più gli aerei commerciali ma ora sono ritornato normale sono ritornato normale vabbè ma poi comunque è una cosa che era fatta nella vita no? jet privato si perca miseria due anni solo privato viaggiavo per due anni viaggiavo solo in privato che cazzo vuoi dire è meraviglioso sì 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 va bene ora ah tra l'altro leggevo un messaggio perché poi volevo pure dire questo che voglio lanciare una bomba non voglio togliere l'attenzione da facebook perché voglio dire facebook è quello che mi ha reso cioè quello che ha reso grandi le mie aziende facebook è stata grazie alla pubblicità su facebook noi abbiamo siamo riusciti a crescere così tanto aumentare il fatturato così tanto aiutare così tanti clienti ma oggi sono tre anni circa dal 2017 in realtà mid 2017 che stiamo lavorando su Udi quindi è per questo che ora ci sono tante altre persone che parlano al posto mio che sono al posto mio nelle altre mie società perché io mi sto concentrando su Udi Udi tra l'altro ora abbiamo abbiamo sviluppato stiamo sviluppando abbiamo tutte le app stiamo creando l'ecosistema cripto quindi finalmente gli abbiamo rimesso dentro il vero cuore dove eravamo partiti di Udi perché Udi nasce come progetto cripto poi quando c'è stata la bufera sulle cripto abbiamo messo in pausa tutto siamo stati gli unici dei miei amici che non abbiamo raccolto neanche un euro infatti continuo a mettere io i soldi su Udi e tra l'altro lanceremo una cripto ma non si potrà non faremo il lancio l'IPO la raccolta la raccolta l'IEO non faremo quella roba lì usciremo con la cripto e poi chi vorrà potrà acquistarla utilizzarla eccetera quindi Udi arriveranno grandi novità ok tu lo dico così ma tanto perché siamo tre amici io su Twitch ho già capito che siamo tre amici e posso dire le cose eh sì ragazzi tanta roba tanta roba ma vi dico un'altra cosa la faccio qualche bambetta considerate che che abbiamo tanti amici nel mondo cripto quindi siamo stiamo tra l'altro facendo una cripto su un exchange decentralizzato che magari può sembrare arabo per il 99% di voi ma ve lo spiegheremo tutto bene vuol dire che è proprio il progetto edge cioè il progetto più avanzato che si può fare con le cripto quindi eh super interessante avremmo modo di parlarne oggi ritorniamo a parlare di imprenditoria di Facebook di advertising di e-commerce di business online Nello eh qui si preoccupano per te cioè Viola che si preoccupa sì no no ragazzi allora volevo rispondere un paio di domande sul mio conto vai sì allora innanzitutto ho cambiato occhiali ragazzi perché interessate fanno vedere questi occhiali ti ecco era che robetta io pure vorrei mettermi gli occhiali non so dove no perché si sono rotti praticamente che è successo per colpa di scalers si sono rotti praticamente prima di iniziare a registrare la lezione stavo stavo smanettando con i fili la connessione la telecamera mi sono seduto sugli occhiali prima della lezione e praticamente Gianno senti sta cosa non ho attivato la videocamera perché praticamente stavo così e la lezione di scalers stavo così avevo anche studiato ho detto guarda se poi mi metto il ciuffo però devo cambiare fila del ciuffo metto il ciuffo avanti ma secondo me Nello devi abbracciare embrace the chaos quindi ti si rompe l'occhia madonna ragazzi aspetta che ti do visibilità massima rimetti i capelli così che spettacolo ma quanto cazzo sono lunghi Nello tantissimo ma tu sei un tronista Nello vedi ecco così ma lo sai che stanno facendo i meme su di te adesso in questo momento lo sai a quanto è quotato che adesso usciranno i link con sicuro sicuro e quindi ragazzi anche questo è business online esatto esatto no comunque volevo rispondere perché proprio oggi ci hanno fatto due tre domande anche con il lancio della focus class sul billionaire il billionaire non sappiamo ragazzi ora siamo abbiamo appena chiuso le iscrizioni quindi hanno chiesto più volte in chat possiamo dire quando perché abbiamo deciso quando riapriremo il billionaire perché abbiamo deciso quando riapriremo il billionaire vai no no ho capito la prossima settimana prossima ah io non lo scrivo e la vogliamo dire un'altra cosa sul billionaire no nico ti devo mutare scusami non lo puoi dire no vai dilla 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 che porteremo in live un altro super caso studio di uno studente del billionaire che ama stare dietro le quinte che poi di belle buona spam è apparso dal nulla e se ne esce con 40k in due settimane 40k in due settimane ah che poi non hai capito questo ospite che poi mi ha contattato su instagram avvicino casa tua no già abita a fianco a me c'è il paese confinante al mio giuro il paese confinante al mio il paesino confinante al mio quindi ragazzi sulla validità del corso non si discute allora ragazzi mi sto ripostando le storie se mi taggate vi riposto è fra è fra una settimana quando riapriremo vi riporteremo altri casi di successo sempre che escono fuori dal billy quindi questo è bello ma è quello dei 50k sì sì è quello dei 50k in due settimane poi l'altro giorno mi ha taggato su una storia che ho messo su instagram che faceva 4k al giorno proprio così l'ho provato proprio io quella bello quello che facevi 4k al giorno ragazzi la gioia che mi danno allora io gli ho scritto ho scritto quando ho ripostato la storia ho scritto la gioia dei la gioia dei nostri studenti lui ha detto guarda non ti preoccupare è tutto sono più felice io effettivamente che gli andavi a dire ci credo ci credo ci credo che gli andavi a dire bgg è il top grande io puzzi le sigarette ve le posso comprare ragazzi smettete allora vi posso dire una cosa brutta ho comprato una sigaretta elettronica senza nicotina eh vabbè senza nicotina dai io la fumavo prima pure io sbapavo prima pure io sbapavo poi quando sono andato a Londra niente sigaretta dopo va bene ragazzi andiamo andiamo avanti andiamo avanti per tutte le domande inerente al bigno ragazzi poi ne parleremo settimana prossima quindi con calma ne parleremo settimana prossima e avrete tutte le informazioni di cui hai necessitate non è un arrivo ma la partenza ti dà una voglia di imparare scoprire cose nuove che non hai idea esatto Bobo poi tra l'altro Bobo come hai potuto notare noi siamo sempre là in continuo aggiornamento quindi non è che lo vai là anche la partenza la rimandiamo sempre un po' più in là tra virgolette perché inseriamo sempre nuovi tips quindi a parte questo sono contento che dici che ti diamo la carica che poi è tutto il gruppo che dà la carica è impressionante questa cosa sì molto bello io penso il billionaire sia veramente ancora insuperato e forse insuperabile per per il numero di successo cioè la quantità di successo che ha creato cioè vi ricordo che sono usciti dei ragazzi che hanno fatto quasi un milione in un mese cioè non lo so di cos'altro dobbiamo parlare va breve va breve allora vada l'undice è una settimana che sto studiando il billionaire devo dire davvero top Nello e Nico davvero spiegano benissimo grazie ottimo corso fantastico questa è la cosa più bella non hai idea della difficoltà che ci vuole per mettere per mettere lì e iniziare a spiegare gli argomenti all'interno del vino perché è difficile vi posso dire un'altra bomba Nico vai allora è uscito un ragazzo dal billionaire che abbiamo fatto cioè ha fatto dei numeri pazzeschi e presto sveleremo un progetto ho detto tutto è uscito dal billionaire presto con uno studente del billionaire ho detto tutto andiamo avanti andiamo avanti allora quelli che facevano 500k al mese che fanno stanno continuando a fare i soldi con la pala ragazzi quando finiranno di farli presenteranno il caso studio vero Gian quando finiranno però adesso no Nello ho guardato l'intervista che hai fatto con Arcangelo non mi aspettavo che c'eri tu sotto BBQ Italia ma ragazzi non mica l'abbiamo presi così a caso ma poi sembriamo coglioni sembriamo tre coglioni con la perpa pubblica e poi non lo siamo tre coglioni ecco qui guarda due coglioni e vedi il coso rosa sotto vabbè mi mi autodissocio mi autodissocio da questa cosa vabbè ormai l'hai sparata ormai è andata oh dio santo chi è e poi dobbiamo dobbiamo integrare dobbiamo integrare quella parte del billionaire all'interno di Scalers ragazzi ci sono un miliardo di cose da fare ancora ci sono un voto di cose da fare ci sono donne raga vabbè non è che abbiamo detto qualcosa di offensivo vabbè allora io ti ho interrotto Nico prima allora io direi di andare avanti se qualcuno ha qualche domanda poi magari vediamo tutto il il programma di facebook ok ma non è scritto se non sbaglio sulla landing lo sai non è scritto non è scritto così è sulla no no non è scritto perché è in modo è in modo macro è scritto sulla landing se non sbaglio non lo so si può ancora mettere la landing eccolo qui ah sta qui ce l'ho aspetta che la faccio vedere come si fa a metterla eccola qua c'è scritto vabbè lo vediamo un attimo facebook advertesi in come funziona ok li hai messi oggi li hai messi oggi l'obiettivo giusto fondamenti di un test 3G evergreen e-commerce lettura dei dati poi livello intermedio 27 febbraio structure for scale il futuro delle azze su facebook madonna quanta roba scalare le azze e-commerce e structure for scale ci tengo a dire che non è mica roba che ho inventato io ma è roba che ha rilasciato facebook attenzione attenzione siamo già sul pezzo quindi chissà a breve arriveranno anche le news esatto perché abbiamo messo nel livello avanzato la cbo perché allora molto spesso e anche in giro poi lo vedo anche dei veri post che sono all'interno del billionaire magari per cbo si intende semplicemente mettere la campaign budget optimization la spunta ma in realtà c'è un mondo che si apre con la cbo ed è importantissimo andarla ad impostare con i parametri giusti altrimenti la cbo non converte facebook predilige ad oggi questo tipo di struttura e il resto lo scoprirete all'interno della focus class e poi andremo a trattare quelle che sono anche le capi avanzate ragazzi aspetta fammi tornare questa cosa di viola che se qualcuno entra e non ci conosce sembriamo infatti come vedete ragazzi sia nella prima focus class che nella terza si parla di lettura dei dati e poi nella terza si parla anche di focus di kpi avanzate perché andremo proprio a toccare a livello advance un pochettino quello che possiamo andare a decifrare dai dati di facebook che è la cosa più importante vi ripeto la cosa più importante è decifrare e interpretare i dati di facebook in modo tale da migliorare tutto il circuito che noi andiamo a strutturare intorno al nostro business online solo così possiamo migliorarlo e ottimizzarlo al meglio ok quindi abbiamo pensato proprio di segmentarlo da questo punto di vista abbiamo già detto che le lezioni sono incluse per il livello imprenditore di scalers perché sono delle lezioni approfondite e sono incluse per il livello di imprenditore di scalers la prima è anche inclusa agli studenti di scalers che non sono a livello imprenditore per tutti gli altri abbiamo dato per tutti gli altri che non sono in scalers abbiamo dato la possibilità di acquistare o la prima livello base o tutte e tre ad un prezzo promo quindi abbiamo fatto questa scelta per una questione di diffusione del sapere e di far capire anche effettivamente il valore che c'è all'interno di scalers una cosa che facebook è proprio quella roba che anche se magari non sai fare niente però fai una facebook ads fatta bene puoi generare dei lead iniziare a vendere e portarti a casa il risultato ma non so lo parleremo anche di altri progetti come sto portando io sto portando avanti su scalers un progetto mio dove io vado a chiedere dei pareri e i ragazzi di scalers lo sanno ho avviato così un progetto e ne ho parlato così su scalers poi all'interno poi di queste focus focus class parleremo anche delle strategie che andrò ad utilizzare per questo progetto qua non si tratta di un e-commerce ok quindi capite bene quanto è utile anche il fattore di facebook advertising per altri progetti al di fuori dell'e-commerce per questo andiamo a parlare in modo approfondito anche degli altri obiettivi perché l'importante è capire come funziona questo tipo di algoritmo altrimenti non riuscirete mai ad impostare la giusta strategia allora vediamo un attimo vedo se ce n'era una prima no prima stavano a cazzo già ti dico assolutamente di sì è registrata la lezione sì registrata la lezione sì tra l'altro chi verrà in live quindi lo prende con questa early bird ha la quota di iscrizione di lancio ha il super mega sconto datevi a guardare tutte le focus class che abbiamo fatto sono ancora è ancora possibile iscriversi ma chiaramente ai prezzi molto più alti di quello iniziale ok quindi chiaramente consigliamo di iscriversi ora ma sia che uno può o non può partecipare perché anche se uno non partecipa in diretta hai tutta la registrazione poi in genere sono un'oretta e mezza di corso a volte finisce che facciamo due una volta io ho fatto una focus class di quattro ore quindi c'è sempre diciamo la sorpresa di quel kinder sorpresa allora andiamo avanti con le domande andiamo avanti con le domande si andrà a parlare pure di copy cosa scrivere sulle campagne allora modo minimo perché qua parliamo proprio di di strutture di facebook advertising non di copy cioè per parlare di copy ragazzi capite che quello è una masterclass a parte poi magari in futuro creators academy deciderà di fare qualche focus classiminato sul copy perché quello è un macro argomento non è da prendere sotto le gambe assolutamente comunque chiaramente se ci sono domande o comunque le indicazioni per fare il copy non è solo quello è più un fattore parleremo all'interno delle focus class come andare ad impostare un test quindi capirete tramite le strategie di adv che imposterete su facebook in che modo capire quale copy spinge di più questo è dal lato facebook poi invece per quanto riguarda la strutturazione del copy ragazzi là c'è vi si apre un mondo che è veramente quella è una masterclass a parte poi ovviamente parleremo di strutture basic per quanto riguarda il copywriting delle peers però non è un corso sul copywriting ok si parlerà di come testare il copywriting sì ok creatività poi chiaramente le indicazioni delle creatività ovviamente si vede tutto quanto perché sono importanti quello tramite le KPI soprattutto quelle basic e poi sulle avanzate andremo a toccare altri punti che praticamente vi toglieranno quelli che sono i dubbi quali sono i dubbi cosa funziona o non funziona facebook ads o il sito che non converte ci sono una serie di cose che poi andremo a vedere all'interno di facebook ads e dico un'altra cosa che hai già detto ma forse qualcuno non ha capito perché l'hai un po' detta implicitamente cioè quando uno impara a fare facebook ads tutto quello che riguarda la creatività quindi il copy l'immagine video eccetera cioè quando hai la metodologia per farlo capisci come li devi fare perché ti spieghiamo come andare a vedere una facebook ads che funziona eccetera ma soprattutto poi tu correggimi se sbaglio Nico la focus class è tua però diciamo da come funziona facebook quando Nico vi insegna a capire come scegliere le creatività quindi copy immagine video come testare poi è solo una questione di test non è che c'è qualcuno che sa come si fa la creatività che funziona meglio ci sono delle regole che sicuramente vedremo però toccherò toccherò anche Kahneman ottimo toccherò Kahneman all'interno della focus class proprio per far capire prima il meccanismo del cervello e poi come farlo vedere tramite facebook ads quindi questo è molto importante allora un corso di facebook ads di due anni fa è obsoleto non è più valido da seguire allora non è che non è valido da seguire è che magari ci sono altre cose che sono uscite e quindi è meglio sempre aggiornarsi c'è un aggiornamento di pensili ragazzi abbiamo fatto lezioni sul billion era ad agosto a ottobre abbiamo dovuto rifare perché non era più applicabile era cambiata la configurazione del diciamo il pannello faccio una domanda voi vedete bene su twitch io sto vedendo il mio schermo di twitch è un po' flesciante non so se è la mia connessione io ti vedo bene ok vabbè sarebbe pensilenti pensieri veloci sì esattamente quello è Kahneman oddio cosa è fatto che è successo sta flesciando tutto vabbè torniamo a noi anche perché quello è un punto è un punto fondamentale poi capirete all'interno delle focus class quanto incide effettivamente la creativa perché c'è proprio un algoritmo rilasciato da facebook proprio la struttura rilasciata da facebook dove là non c'è da improvvisare ma c'è da seguire ok quindi bisogna seguire quel tipo di indicazioni per fare bene per questo ho pensato di introdurre e di mettere anche delle pizze di Kahneman all'interno che credo siano molto molto utili allora vediamo ci sono un po' di domande ora cerchiamo di rispondere a tutti datemi un attimo che me ne sono perse rispondo a Redrit per gli studenti di Scalers le altre due lezioni pensate bisogna acquistarle sì Redrit perché quelle sono per tutte e tre per gli imprenditori però la prima abbiamo pensato di darla tutta a Scalers esattamente allora in quella focus class spiegate anche come non farsi bloccare l'account di business manager seguite le indicazioni ragazzi dovete seguire le policy di Facebook non è che ci sono delle regole di rispettare se non le rispettate Facebook qui vanno appunto non è che è semplice questa cosa è molto molto semplice allora Davide ci ha fatto un complimento lo leggo che mi fa sempre piacere perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro o almeno noi ci proviamo ragazzi a mia enorme passione che mettete nelle cose che fate dico sul serio continuate così grazie grazie Cinzia riceverete un link per per poter iscriverti sì cioè che praticamente è uno sconto sul riservato a Scalers sulla quota totale ok magari dopo lo prepariamo ricordiamocela questa cosa si può sentire la propria tutor per l'iscrizione sì viola certo sì sì si proviamo a stare no allora su questo abbiamo scelto di no ma dato che l'ha scelto Nico Nico spiegato allora no assolutamente no perché sono proprio ideotica quindi la prima se sei curioso del valore che noi siamo all'interno o se ancora hai dubbi comunque ti invito a seguire le altre 600 700 mille ore caricate gratuitamente nei canali Gia Luigi per capire effettivamente se darci o meno fiducia per ragazzi sono meno di 10 euro al giorno per tre focus classiminate sulla competenza più croccante che c'è al momento che fa non voglio esagerare però dico il 51% del successo di un business online oggi allora io sono pure su scalers tra l'altro ora che ho visto che stanno facendo casino qui su scalers comunque ragazzi scalers è il top cioè è la cosa più bella che abbiamo fatto scalers gruffi saranno comprese le mie sessioni notturne sì assolutamente sì lo sai mi prende mi gira io scrivo se ci siamo scatta la live e si parla fino alle 4 di notte allora vai avanti tu che io nel frattempo sto cazzeggiando qui su scalers non lo dovrei dire ok allora ma per gli studenti altri due allora reddit ti abbiamo già risposto sarà preparato il link esclusivamente per scalers con la promo all'interno di scalers niente si parlerà delle aggiornamenti rivolte a iOS 14 sì si parlerà diciamo in senso lato dell'aggiornamento di iOS 14 ma toccheremo l'argomento dal punto di vista di Facebook per chi segue questo mondo qua Facebook comunque dà dei consigli per sopperire alla mancanza proprio dovuta all'aggiornamento di iOS 14 quindi parleremo di cose che è cambiato principalmente e in che modo poter andare a sviluppare al meglio una strategia anche con l'aggiornamento di iOS 14 quindi sì la risposta è sì rimettete il link della focus class Greta adesso la regia la regia la rimetterà ah no ma veramente l'hanno messa eccolo qui grazie mille Spartax grande Spartax più efficienti della regia è la chat veramente comunque adesso tireremo fuori qualche un po' di team qui da dalla chat comunque ragazzi Twitch Twitch mi mancava la cosa la cosa bella di Twitch è veramente che si può parlare cioè su Clubhouse sempre devo dire 30 secondi poi sto zitto 30 secondi fai zitto 30 secondi fai zitto invece qui posso parlare ah che bello andiamo avanti che poi mi diverto tantissimo su Clubhouse quando poi vengono quelli a proporre i prodotti dicono no è cambiato e se di Giard che loro si prendono ma tu mi sono incazzato allora la prima non stavo ascoltando perché mi avevano chiamato e quindi non sento quando sei su Clubhouse ti chiamano non senti e poi Nico mi ha scritto su Whatsapp e mi ha detto oh ma questa c'è una ragazza che ha sentito sta parlando del network marketing io ho detto no non ho sentito cosa è successo che era nella sua room era nella sua room e c'era GGB mutato perché giustamente c'era la tipa che stava parlando ha detto Gian ma c'è questa qua che sta parlando del network marketing sta denigrando l'e-commerce i vantaggi Luigi ma cosa stai dicendo subito si collega no ma sai perché che ha detto ha detto io faccio e-commerce social selling social selling io guardavo sulla bio che era una network allora mi sono incazzato però dato che non è come qui che qui siamo a casa nostra ragazzi lì sei in piazza cioè è un po' questa la differenza qui siamo a casa lì sei in piazza essendo in piazza comunque qui si parla di filosofia legata alla crescita personale non il cazzeggio di twitch dice Davide Davide su scalers sta scrivendo Davide ma che intendi qui dove su scalers dici di che stai parlando Davide vabbè comunque questa ragazza dice dice no faccio social selling allora così cosa intendi per social selling cara e lei no perché praticamente non devo vendere niente mando i messaggi con i prodotti alle persone ah quindi fai spam lei no 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 non è che faccia spiegami bene cosa fai allora io mando dei messaggi per proporre i prodotti nell'azienda in cui di cui credo sai tutte quelle quei trigger a esplodere proprio tutti i trigger mi ha fatto partire allora ho detto ok però non chiamiamolo social selling chiamiamolo spam nei direct ok allora tu fai spam nei direct che poi Gianna alla fine come gliela ha chiuso ma scusa allora per ricapitolare tu mandi messaggio alle persone come le mando tutti i giorni solo che al posto di dirgli buongiorno e gli dici compra questo prodotto e lei fa e lei fa eh sì più o meno ma allora ma queste persone sono loro a chiederti che vogliono vedere il prodotto sei tu che glielo mandi no sono io che glielo mandi allora è spam eh ma perché uno deve chiamare le cose con il loro nome con il loro nome ragazzi in social selling stai facendo spam membro diamante membro diamante minnaccio la miseria e poi lì mi dovevo contenere perché sai che cioè sei in mezzo a gente così a casa non si sa io ridevo ridevo stavo ponendo delle risate stavo veramente ponendo delle risate non ce la facevo più non ce la facevo più Davide dice qui si parla di filosofia legata alla crescita personale è vero che ogni tanto tipo alle 3 di notte facciamo le live parlando di crescita personale adoro hai ragione giusto clima facciamo anche anche delle delle sessioni di stoicismo e di mindset su scalers giusto l'unica cosa di diamante devono essere le mani che intendi ma perché fra non entra perché fra non entra ma che ne so fra fa sempre come gli pare fra se vuoi entrare il link ce l'hai fai come gli pare la faccia invece è di bronzo allora potete spiegare nei dettagli cos'è lo spam e quando si verifica te lo spiega Nello lo spam per esempio è quando è quando Angelo ti contatta in privato stava diventando troppo serio Nello l'ho visto io lo scrivo manco la mia ragazza allora ragazzi dovete sapere che Angelo che Angelo allora facciamo una cosa in questa temporale mi consiglio di iscrivervi alla focus class perché state parlando con uno che sta facendo pubblicità su Facebook con gli account bannati da tre mesi quindi o è un genio o è un genio o fa social fa social selling però non è possibile non sto scalando mi fa vedere dei dati un po' sì sì io ce l'ho bloccato l'accamp però sto facendo questo però faccio ma che cosa ma in qualche modo bisogna fare comunque ragazzi lo spam è per esempio clicca su questo link che hai vinto la lotteria hai vinto un iPhone 5 praticamente un iPhone 10 clicca qui clicca lì clicca lì e poi niente e vede in culo mi dicono a Roma mi fate iervi l'annello comunque però guarda Giano quando parlo così guarda guarda come la chat inizia a sclerare vedi per sbammare comunque quando la gente manda messaggi non desiderati c'è anche la cartella per esempio nelle mail la cartella spam perché quell'indirizzo mail viene associato comunque a spam l'attività spam comunque io mi diverto su Twitch ragazzi veramente Clubhouse è troppo serio diciamo la verità veramente serio dipende dipende ci sono delle room dove si cazzeggia alla grande ma posso dire una cosa io ho provato da speaker secondo me secondo me è molto più noioso essere uno speaker che essere un ascoltatore ti spiego perché lo speaker comunque devi avere una sorta di attenzione perché altrimenti esci fuori dal discorso quindi ti rompi un po' dopo un po' ti posso dire prima che finisci questa storia il moderatore cioè da moderatore devi stare così è esatto e sto a tre ore così ragazzi esatto invece come ti dicevo chi è invece solo il fruitore del contenuto che alla fine chi ascolta lui sta facendo la palestra cucina sta a computer lavora quindi comunque è un ascoltatore passivo cioè come se stesse ascoltando un podcast o la radio praticamente quindi non gli pesa cioè ho ascoltato room per un'ora e mezza ma tranquillissimo cioè in maniera passiva ha stimolato ma se invece dovevo stare lì per un'ora e mezza ascoltare a 50 di loro che si danno la parola per dire un concetto che volevo dire un quarto d'ora prima cioè non lo so è un po' strano questa cosa però comunque ci sono room dove dicono un sacco di boiate però ragazzi vi posso dire una cosa le uniche room da seguire sono le nostre e quelle americane con Elon Musk oggi mi sono ascoltato una room con il founder di Coinbase se non sbaglio fra era Coinbase ma è vero che Elon ha invitato Putin su Clubhouse è vero comunque che pazzo proprio e Putin gli hanno risposto che è molto interessante che quindi faranno il Cremlino era Binance scusate era Binance no perché ho visto ieri mi sono fatto una room con Coinbase e poi ragazzi il tizio che mi ha portato ora vi faccio vedere il profilo di Clubhouse anzi intanto finisci ah no è finita la storia Nello sì ok vi faccio vedere questa cosa di Clubhouse Nello guarda che dietro di te c'è l'armadio bianco che riflette ciò che tu guardi quindi non andare sullo store eh non andare sullo store non andare sullo store allora guarda qui GGB c'è Luigi Ballarani con la foto storta vabbè 7.2k sono un influencer ma questo è voluto vedere Gary Tan Gary Tan è quello che mi ha fatto iscrivere guarda Gary Tan chi l'ha invitato a parte guarda chi è Gary Tan 118k stava uno dei found stava sul palco con Elon Musk non l'ha invitato nessuno è dentro dall'inizio è uno dei found questa è la cosa di cui vado più orgoglioso di Clubhouse adoro eh non è allora Jovi dice si vocifera che la Tesla rossa si solleverà un metro da terra non è che si vocifera è che io mi sono guardato la il podcast di Elon Musk con Joe Rogan Elon Musk praticamente ha detto che stanno lavorando per far rendere la rossa volante ma non volante 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 ok senza gomme esatto che figa ah ho fatto una ho fatto una clubbata con il fondatore di Clubhouse ragazzi è incredibile questa cosa è contento lui ma era una stanza chiusa quindi c'ero io lui un'altra mia amica e un'altra americana c'è una cosa incredibile ragazzi un aperitivo intimo c'era Dom che mi segue in tutte le stanze che io adoro io sono team Dom e poi mi sono visto una room con Zuckerberg quindi per queste cose è figo le room italiane sì diciamo ci sono delle room interessanti piano piano più interessanti sono le nostre c'è una verità ragazzi c'è una verità ah ma è vero la prima nostra stanza di creators quanti appuntamenti c'hai poi al giorno business talks quanti ne fai? ho uno business talks basta ok sì ma per ora che non abbiamo ancora creato i nostri format di creators quindi poi vedremo se ne fanno ok Mark Zuckerberg non è su Twitter è su Clubhouse Gianni io seguo solo le tue room grande Michael grande Michael ah se hai Amazon Prime puoi abbonarti ma chi è Stream Elements ragazzi? chi è? qualcuno della regia oh ti adoro allora se mi mandano la landing per generare leads mi date dei consigli sì sì dai Manuel manda e tutto facciamo qui se vuoi pure consigli sull'amore sulle carte numeri su Supereralotto Supereralotto ragazzi ovviamente per chi non ci conosce si scherza l'account di Monty è il più secondo me sì è il più seguito in Italia ha tipo 87k cioè io ho 7k follower sono sfigato ma in realtà sono uno dei numeri 1 in Italia perché siamo tutti piccolini ma la landing ragazzi è l'Elon Musk dell'Italia per cose in Italia non ci sono numeri interessanti lui va in America e sta con Elon Musk ma stare con lui è come Elon Musk in Italia è uguale comunque è un po' di giorni che la gente mi scrive sotto i commenti Elon Musk italiano non so perché è partito questo trend penso perché parlo sempre di Elon Musk però mi fa molto ridere Nello ha lanciato l'hashtag qual è l'hashtag? ma lo so perso Gianni Elon Musk italiano Gianni Gigi Musk Gigi Musk Gigi Musk allora volevo recuperare questo link che ci ha mandato Manuel ora Manuel cerco di recuperarlo perché qui non me lo dà cliccabile quindi devo entrare va intanto parlate voi ragazzi ragazzi li ho finiti adesso ho gli ultimi inviti che dobbiamo mettere facciamo un giveaway però poi appena rifinisco me li dovrebbero ridare quindi ma come funziona meglio questa cosa degli inviti mi ho invitato due persone soltanto cioè ne abbiamo cinque se non sbaglio giusto? no poi te li ridanno te li ridanno in continuazione ragazzi io vorrei dare gli inviti a tutti ma ora facciamo un bel giveaway di inviti e poi voi che siete qui su Twitch vi vi sì oh ti ho invitato io tanta roba ragazzi tanki tanki quanti followers hai tonnello? io un po' i followers 89 89 ok pure io sono nominato da GGV no però ti voglio far vedere la bio del boomer guarda la bio del boomer vedete ah da bio niente vuoto che buona che sei allora bello quando ti vuole far vedere il telefono no perché lo schermo è girato la telecamera strana perché perché ho abituato quella fidazzata che dice fammi vedere il telefono non mi ha preciso sì ragazzi infatti possiamo fare una catena qui ha detto bene Roy cioè io invito qualcuno voi invitate gli altri così noi di creators siamo tutti dentro questo mi sembra mazza Roy questo è proprio un'identelligente lo sai sì ma è solo per iOS ragazzi se non avete l'iPhone seguite Nello che vi regala l'iPhone con Clubhouse all'interno invitato da GGV che è invitato da Tancan che al mercato mio padre compro secondo me è per questo che non ci segue nessuno qui sul Twitch perché sono troppe cazzate diciamo ma forse troppe poche per Twitch la verità è che forse diciamo troppe poche infatti lo stavo per di c'è su Twitch cazzate dici effettivamente meglio funziona più l'algoritmo è arrivato uno l'altro dire che la pizza voletana fa schifo giustamente Malesani ha detto cacciate gli inviti su Scalers amici miei partiremo da Scalers a dare gli inviti hai ragione è vero una streaming a settimana si consiglio oh non l'avevo letto non l'avevo letto che ci fai qua che gli intelligenti ci fanno vergognare ok che ho rubato a me ah ok va bene che bellissima quella dice abbatte 5 euro io condivido ti ha detto ah sì allora ma io ormai che la sera non c'ho più niente da fare il mio modo per rilassarmi è stare su Clubhouse quando non faccio le dirette su Twitch e quindi ogni tanto rimango tipo sabato sera l'ho passato no forse era domenica non mi ricordo su Clubhouse fino alle o venerdì tipo una serata fino alle 4 notte su Clubhouse infatti poi la gente dice ma ciao ma tu sei su Clubhouse alle 4 notte vabbè lasciatevi vivere ragazzi allora c'era il ragazzo che ha condiviso il link che non ho ancora trovato vediamo se lo trovo perché ma lo vuoi venire a condividere per favore su Twitch che non riesco a trovare questo qui che mi ha messo Manuel vieni su Twitch per favore siamo su Creator's Talks ok ok allora ragazzi avete delle domande? io mi sono addormentato su Clubhouse e ero rimasto solo io a venerdì era fino alle 4 c'eri pure tu Crufi? c'eri Crufi? vabbè ma è andata avanti voi ragazzi non ci deve essere silenzio allora che stai facendo? no dobbiamo dobbiamo organizzare questa questa catena ma prima partiamo da ma prima partiamo da scalers sì vi farei vedere il mio e-commerce mi sa che abbiamo il giorno degli e-commerce a parte siamo già un'ora e un quarto quindi tra un po' attacchiamo 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 il telefono stacchiamo ah sì io mo' sono andato un attimo su su scalers allora Davide Yellow ci dice quante ore al giorno dedicate al vostro lavoro? dipende da quando mi sveglio a quando vado a dormire non mi sono neanche allenato oggi ho mangiato dieci minuti e sto lavorando ah comunque c'era una domanda di Greta prima Greta la lezione in live sarà alle quattro poi comunque stanno registrate quindi avrai accesso alle registrazioni delle focus class anche se magari non avessi la possibilità di seguirli in live è l'accesso alle lezioni alle lezioni da un'area riservata quindi non c'è problema prima domanda se ricominciassi da zero qual è la prima cosa che faresti? mh interessante rispondiamo a tocco? vai se ricominciassi da zero qual è la prima cosa che faresti? allora innanzitutto sceglierei le cose da studiare eliminerei la parte dove approfondisco il network marketing eliminerei assolutamente quella parte là mi concentrerei innanzitutto non sto scherzando ragazzi ma prima di ogni cosa prima sul su facebook advertising e sceglierei una serie di libri che poi ho letto comunque Manuel dice domanda tecnica per lavorare a tutto tono nel e-commerce avete imparato html e css? assolutamente no io css non so neanche che punti onestamente zero html l'ho studiato quando avevo 18 anni per fare le mie prime landing page perché non esisteva unbounce non esisteva clickfun non esisteva niente io mi facevo la landing page a mano con non mi ricordo le caricavo con filezilla mi pare si chiami sul server la sciampede la sciampede io prendo questo argomento per fare un attimo un chiarimento secondo me voi che iniziate ragazzi lo so che è difficile all'inizio iniziate a infarinarvi un po' su vari aspetti ma in maniera molto superficiale per capire quale in base alle vostre propensioni può essere la skills che è più interessante che vi piace di più e al quale dedichereste più tempo inizialmente le altre cose praticamente inizialmente vedete se fanno per voi poi iniziate a vedere come fare per evitare faccio un esempio pratico c'è SSHTML se voi fate uno store in Shopify veramente vi serviranno poche cose customizzate almeno che non siate in un livello più avanzato e avete esigenze particolari che vi volete far fare a poco e nulla e avete già tutta la piattaforma fatta ma stessa cosa per le creative stessa cosa cioè dipende dal ovviamente dal dal settore però iniziate al allora innanzitutto le tre regole che ripeto sempre del successo fare, fare, fare quindi iniziate a fare questo è bellissimo quindi iniziate a fare ecco faccio il programma da nove anni sicuramente sarai Mike per esempio tu sicuramente sarai avvantaggiato rispetto ad uno che non ha proprio concezione di come sviluppare una piattaforma però relativamente perché ci vuole essere anche il ragazzo che dopo un mese ti fanno e-commerce che fa ecco fa 40k al mese e tu stai ancora lì a fare il pulsante preciso bravo bravo io questo volevo dire che secondo me cioè è buono che hai delle competenze ma molte volte le competenze pregresse sono un limite perché ti danno dei preconcetti e quindi tu ormai ti sei fatto un'idea di come si fanno le cose infatti più quelli che diciamo mi fanno un pochino più tenerezza sono gli esperti di internet di dieci anni fa che sono convinti che loro avevano capito com'è internet dieci vent'anni fa sono gli esperti sono super loro sanno poi gli vai a chiedere ma senti da quant'è che non fai una campagna su google da dieci anni non la faccio ok vabbè sai che è cambiato un pochino internet non so se ti è mai successo di vedere un po' come funziona questa cosa qui non so se sai che non si chiama più adwords esatto chiama ads cioè no e quindi no molte volte possono essere anche veramente controproducenti ma solo quando ti lasci tu limitare da questa cosa qui cioè pensi che sai io di base penso che non so un cazzo e quindi tranquillamente imparo cerco di imparare sempre tutte le cose nuove sì 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 questo è il punto la filosofia di chi la vuole nel digitale quando funziona è obsoleto ragazzi basta ads 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 bravissimo bisogna capire il framework bravissimo Clema grazie chiarissimo allora c'era una domanda di Roy ma Roy ma tu sei sei qui in scalers no perché ti vedo un botto di volte ma forse sempre qui su twitch non mi ricordo non si chiama più adwords non si chiama più adwords adoro io inizierei dal guardare creator stalks invece di netflix bravo questo può aiutare molto può aiutare molto poi aiuta tanto anche il farsi contaminare dal settore io proprio quando sono incuriosito da un argomento che non sia quello lavorativo in generale inizi a vedere contenuti inizi a informarti inizi a entrare in quell'ottica poi se hai un po' di esperienza ma non di in quel settore ma esperienza un po' nel fare cioè sai come per te è il giusto approccio del far ognuno ha un modo di approcciare diverso nel fare le cose quindi quando tu capisci qual è il tuo approccio inizi a farti contaminare da tante informazioni riesce anche a capire pure che il settore è nuovo quale informazione approfondire o come funziona una cosa quindi poi diventa tutto un divenire secondo me quella più la cosa che è la skills tecnica che la skills tecnica dipende sempre a che livello voi operate se poi volete lavorare per un'agenzia o fare il freelancer su quell'argomento è chiaro che dovete approfondire in maniera verticale quella materia questo è ovvio ma se volete fare l'imprenditore facciamo sempre l'esempio dell'imprenditore tradizionale l'imprenditore tradizionale toglietevi dalla testa che è quello che ha fatto 20 anni il panettiere e vuole aprirsi la panetteria perché quello è colui che ha lavorato sicuramente ce ne sono tanti anche di successo però è quello che ha lavorato e dice vabbè me la apro per fatti mie perché ho capito come funziona no ti ho capito come si fa il pane però capire come si fa imprenditore ci può essere un imprenditore che viene da un settore che non c'entra nulla ti fa la panetteria che fattura 50 volte tanto la tua dopo un mese nonostante non sappia fare nemmeno l'impasto questo perché? perché paga persone capisce come funziona il sistema sa vendere sa acquisire clienti sa come si apre un'attività e vince sempre rispetto a un'altra è questo che volevo questo messaggio che volevo far passare un po' quello che dicevamo prima assolutamente allora ora mi ha scritto gladra 16 ti è arrivato il link già dove? non lo vedo dove è il link scusami non sono perso io prova a rimetterlo prova a rimetterlo allora Pairoi dice ancora no tra poco mi scrivo vabbè intanto noi i nostri progetti sono rimasti sono per restare quindi non vi preoccupate quando è il momento quando è il momento marcherete la soglia non vi preoccupate io faccio il programatore avevo letto un altro commento ah ok questo qui fede 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 ha senso iniziare oggi un blog per vendere un'affiliazione e farlo crescere piano piano nel tempo per avere vendite d'altra forma no scusa aspetta che te lo ridico no non ha proprio senso non ha proprio senso vabbè questo è un argomento un po' delicato da toccare ma se con la mia no Nico vuoi raccontare ah non hai ben capito la risposta aspetta che te lo ripeto aspetta un attimo ma Zuma no no Nico vuoi raccontare della tua esperienza che chiedono non ho capito come dei corsi che tu hai fatto in America quelli da 4.000 euro al mese 2005 25 eh no quelli là sono dei allora praticamente ci sono dei percorsi americani allora io iniziando con i billionaire poi ho iniziato ad avere risultati con i billionaire e avevo necessità di diciamo di informazioni più veloci più potenti ok e anche perché avevo iniziato poi a prendere diverse aziende che dovevo seguire quindi erano diverse situazioni da gestire non è sempre la stessa cosa e poi niente ho deciso anche di approfondire questo mondo qua del del metodo americano perché dico metodo americano perché gli americani operano in modo massivo di budget ma veramente push 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 però ci sono alcune strategie interessanti che poi ho fatto mia ho avuto modo di testare eh di testare in quelli che sono in diversi mercati quelle buone le ho ottenute eh quelle cattive che sono da push 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 dove ci ho preso le batoste e lo eliminate comunque sì ho fatto dei percorsi americani tipo a funnel mastery lì con million project comunque percorsi di studio 2005 masterclass 25000 tipo 6 ma sono dei percorsi dove ti insegnano diciamo visioni un pochettino diverse di mercati diversi con budget totalmente differenti ragazzi totalmente differenti sì però un attimo fargli capire questa tua visione perché è quello che dicevo io prima in pratica però bisogna evidenziarlo cioè tu sei andato a diciamo a scegliere questi tipi di percorsi perché già avevi una base e sapevi dove approfondire la tua sì esatto la tua skills praticamente io un consiglio che vi posso dare ragazzi ho fatto master master universitario master professionale eh ho studiato Kotler ho studiato cioè ho studiato di tutto ma vi dico la verità personalmente per il mio approccio quello che mi ha dato il mettere in pratica e risolvere i problemi delle cose che leggevo non me l'ha dato nulla perché praticamente il libro qualsiasi libro voi leggiate eh lo dimenticate cioè ricordate i punti salienti ma tutta la parte diciamo descrittiva eccetera eccetera di percorso se voi non l'applicate ve lo dimenticate dopo un mese quindi è relativo per dove studiate studiare e applicare come dico sempre il fatto il le tre regole del fatto sempre quelle ragazzi fare 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 poi ci sono altre tre che conosco io allora ci sono ci sono sei F le tre F queste qui le diciamo per i ragazzi poi in scalers diciamo le altre tre tra un paio d'ore ehm questo quello che volevo dire è proprio in base alla mia esperienza perché veramente ragazzi ho fatto cioè ho pagato io ho pagato male lo dicevo anche l'altra volta ho pagato un master professionale 3500 euro dove la la diciamo la promessa maggiore era ti faccio fare lo stage in un'azienda capito però però allora eh no detto questo io ci tengo ci tengo a dire una cosa che eh non sono dei master dove tu paghi ed entri ehm io ho fatto un percorso di selezione e se non fosse stato però no però dico sì no dico se non fosse stato per il billionaire attenzione questa cosa ci tengo ad evidenziarla io non sarei mai entrato infatti sono l'unico italiano ad essere dentro perché gli argomenti toccati da dal grandissimo dal grandissimo Valerio nel primo billionaire ok sono ancora tutt'oggi validi assolutamente io non non sto dicendo che non sono validi semplicemente che eh erano dati cioè erano toccati in modo macro perché su ogni argomento che diceva Valerio ci si poteva aprire una focus class ok quindi da lì poi è venuto il test per approfondire ma se non compravvi il billionaire che ti dà no io non sapevo niente esatto quello che è importante capito proprio zero perché voi vi leggete il marketing strategico di marketing management cioè nel pratico non vi serve perché quello serve a chi già sta in un'azienda vuole scarare la vetta vuole diventare quello come dice la parola marketing management è chi vuole fare il manager del marketing in una multinazionale poi sono dei concetti che servono però anche lì poi serve pure competenze pratiche diciamo competenze stradiche sì ma infatti quando è uscito il billionaire ha fatto c'era più contento di me anche se non c'avevi soldi per comprarlo non c'era nessuno perché ho detto finalmente ho trovato qualcuno che mi insegna sta roba perché era difficile era veramente difficile c'erano informazioni che in giro tu non le trovavi né in inglese né in tedesco né niente non le trovavi e come ti andavi ad affidare le masterclass americane senza aver approfondito un minimo dove ti chiedevano duemila tremila quattro mila cinquemila dollari poi ho uscito il billion ho detto vabbè sono italiani mi hanno spiegato in italiano non ho nemmeno la difficoltà della lingua poi costa solo mille euro rispetto cinquemila del tizio cinquemila del caio ho detto ma sai che faccio faccio i debiti me lo compro e vediamo che succede andata bene questo è quanto poi il resto del percorso è venuto dopo cioè io sto qua sempre ad evidenziarlo perché poi ho avuto modo di approfondire perché giustamente se c'era una roba che non avevo ben capito cioè stava a me andarla a testare e cercare di capirla al meglio poi ci ho preso le batoste come a delle volte mi è andata bene cioè questo è quanto cioè come in tutte le cose credo che sia così e poi successivamente lo studio è fatto a livelli cioè in base al livello è fatto a livello perché lui ha scelto praticamente l'esempio il paragone di Angelo nell'offline cioè nel percorso accademico tradizionale universitario e tipo lui ha scelto cioè lui ha studiato alla triennale esempio poi avendo quelle basi approfondendo delle materie cioè volendo approfondire delle materie che gli piacevano alla triennale ha scelto il master tra virgolette per farvi un esempio di diciamo del percorso che ha accenato Angelo però la cosa importante ripeto secondo me inizialmente è che cioè voi dovete sapere cosa andate ad escludere quindi dovete avere una piccola infarinatura di quello che è l'ecosistema del marketing digitale o di quello che vi interessa e poi andate ad approfondire quella branca oppure vi create una vostra realtà e lì imparate skills sono indifferenti perché sul campo si impara cioè io ad oggi che pure quando lancio un e-commerce sto imparando la gestione della logistica la mail marketing cioè se non ti metti tu a farlo chi te lo fa dove lo leggi quello ti dice una cosa cioè se non lo fai come fai a verificare ok mi leggo il corso sull'automazione delle mail poi non so perché non cliccano perché non aprono sbagliate a mettere il link cioè queste cose qua quando le vedi nei libri cioè è chiaro che poi devi riappicare allora rispondo un po' di domande dove è il Valepex Valepex sta facendo e-commerce e affiliate quindi si è ritirato dalla scena perché 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 comunque ragazzi insegnare è un impegno cioè insegnare è un impegno quindi vuol dire stare appresso agli studenti rispondere che poi ti contattano che poi fanno domande devi devi aggiornare e si era rotto il cazzo di farlo e quindi ha passato il testimone abbiamo fatto un'attenta selezione tra tutti i candidati a essere i futuri docenti del billionaire per dare continuità e ripeto erano solo i candidati solo presi dai top studenti del billionaire ma comunque tutti tutti i studenti che stavano facendo numeri importanti o che avevano portato casi studio importanti quindi ecco sono felice che nico e nello e nico nico e nello e nico nico e nello e nico nico e nello dove ne lo scriviamo nico e nello e nico e anche angelo ogni tanto viene pure angelo a fare lezioni una la farà angelo una la farà angelo quella sul vino come scritto anche sulla bio di club house amo bene il vino io non credo che aiuti questa cosa infatti qua c'è scritto nico infatti qua c'è scritto nico nico e quello serio nico e quello serio con angelo si fa serata nico e nello e nico e quindi ecco questo rinnovo proprio il mio cioè la soddisfazione ragazzi di questa scuola perché ma comunque io ho una visione abbastanza a lungo termine il billionaire esiste da due anni e mezzo forse l'accademy è nata con il billionaire ma ancora non abbiamo il sito web dell'accademy che è arrivata l'uprezia che è diventata la nostra nuova ad di di creators academy sta provvedendo a far fare il sito che non ci siamo riusciti in tre anni abbiamo un sito che fa schifo ma ecco c'è link che funziona però per dire la nostra visione è da qui a 50 anni cioè ma cosa sarà la creators academy da qui a 10 anni cioè quanti quanti milionari avremmo creato adesso dico cosa e rifraggio a luigi dice che fanno i milionari non voglio dire questo ma è quello che già è accaduto cioè già è accaduto e accadrà sempre di più perché poi l'altro concetto è che uno comunque io vedo il billionaire ma come tutte le masterclass che facciamo con con l'academy sono dei portali cioè sono dei portali che ti portano in un nuovo mondo ti portano ti danno una mappa ti fanno esplorare ma quando sei in un nuovo mondo poi cioè il com'è che si dice la fame viene mangiando no? cioè la fame viene mangiando e quindi vuoi che ne so ti piace il copy approfondisci il copy ti piacciono i video approfondisci i video ti piacciono i facebook ads approfondisci i facebook ads cioè non è che è un corso sullo scibile umano c'è tutto quello che ti serve per ottenere questo risultato poi da lì in poi tu sai comunque dove muoverti sai riesci a capire se qualche qualche corso sono cazzate riesci a capire se qualche corso è valido riesci a capire se una persona che parla è competente eccetera 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 quindi questo è il discorso in modo molto onesto e franco ok andiamo avanti ecco le basse versione android che ne so che ci aveva mandato qui in chat il nostro amico ce l'ho qui già ti dico fa schifo così ci togliamo subito il sassolino dalla scarpa è proprio orribile devi iscriverti al billionaire perché oppure no nel senso fai come ti pare però lo faccio vedere perché se no sembro stronzo io ma questo è il sito quindi con questo sito cioè non si può ok ma cos'è ma cos'è sto fluo non lo so intanto beh adesso non voglio demolire le persone quindi complimenti per aver fatto un sito forza avanti tutta pacca sulla spalla detto questo anche diciamo rimettiti a a studiare a lavorare perché con questo sito non si può guardare ok cioè ti rovina la reputazione tu per avere questo ti rovina gli occhi oltre agli occhi anche la reputazione cioè magari tu hai investito non lo so migliaia di euro per avviare la tua attività e poi fai questo sito probabilmente fatto a zero euro e se l'hai pagato chiedi soldi indietro chi te l'ha fatto e e quindi il problema è che cioè è che bisogna fare le cose fatte bene con professionalità è come se tu stai vendendo questo no è come se invece di questo lo facevi di cartone o di polistirolo sto coso per mettere la moto cioè allora questo lo fai super bene e poi il sito fa schifo cioè è un problema questa cosa qui capito vabbè abbiamo dato pure il feedback sul sito ok dove eravamo rimasti studio un po' di UX design assolutamente ma ragazzi altri consigli UX design su instagram cercate le pagine di UX design scrivete UX design cercate gli hashtag e anche solo che vi vedete nella feed iniziate a trinare la vostra intelligenza biologica cioè iniziate a prendere informazioni su come si fanno le cose fatte bene ok sono risorse gratuite è gratis gratis però come diciamo spesso se non si paga non c'è valore ma quanta fame hai che senso quanta fame hai ah forse diceva per allora se ti sente Alfione allora sono rimasti parecchi crediti in che senso sono rimasti crediti per fare cosa la versione android di clubhouse il libro del mese ragazzi l'ho trovato ora vi do il libro del mese la versione android di clubhouse ci dicono ecco il libro del mese ragazzi si chiama digitalization no scusate sono tre settimane che non leggo un libro da quando hai installato clubhouse per dire adesso non voglio diciamo l'associazione viene naturale però sono tre settimane che non leggo una pagina di un libro ho detto tutto mi vergogno tantissimo vabbè andiamo avanti faccio vedere spero poco spazio per la mia moto tal proposito consiglio di comprendere graficamente ok eccolo qui bravissimo frankie grande vabbè ragazzi io direi che dopo un'ora e trentacinque possiamo salutare i nostri amici per tutti quelli che si sono collegati in ritardo vi ricordiamo che uno domani siamo su clubhouse alle nove di sera a parlare di non si sa ancora cosa però abbiamo scritto sulle storie argomenta questa cosa l'abbiamo ancora deciso poi clubhouse ti sta schiavizzando no non è che mi sta schiavizzando è che mi sto mi ha proprio cioè io mi sento quando cioè da quando è stato clubhouse come sono stato risucchiato nel clubhouse guarda che ragazzi è coinvolgente vi posso assicurare che è davvero coinvolgente sì sì ma io lo tengo tipo radio nome utente digitalization è proprio l'inizio del funnel è l'inizio di tutto leggi quello e poi vedi che succede come si chiamava social si chiamava social selling io faccio social selling che senso scusa mando i messaggi alle persone ma alle persone che non conosci lei mi ha detto no a quelle che conosco quindi mandi spam ai tuoi amici questo è una prossima troveremo le registrazioni nel podcast allora podcast no non so se domani non registriamo sto aspettando che su clubhouse permetteranno di registrare e così io farò tutti i miei podcast su clubhouse e vi farò uscire un podcast al giorno praticamente allora android non si sa quando uscirà su clubhouse a breve a breve ora stanno ancora scavando iphone ah altra cosa importante no non è un tripwire ragazzi ho messo in digitalization tutto quello che c'entrava in 300 pagine quindi veramente c'è un botto di conoscenza e di competenza non è una roba così per ridere è una roba seria non è una lettera di vendita come dicono non fare una lettera di vendita in un libro no è proprio un libro serio pieno di roba lo faccio studiare pure i miei studenti all'università allora 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 altra cosa niente volevo ricordare che è uscita il corso completo di facebook ads del buon nico angelo nico angelo maiolini ecco il link che ora qualcuno una buonanima vi metterà qui qualcuno esce qualcuno esce lga ragazzi ragazzi andatevi a vedere il mio podcast eccolo qui grande spartax grande spartax ho registrato un podcast su clubhouse tra l'altro è durato tipo due ore bellissimo vi consiglio andarlo a recuperare perché è tutta la questione di gamestop quindi se volete capire tutto quello che è successo con gamestop che ha cambiato la finanza per sempre c'è stato un momento chiave quello che è successo andatevelo a sentire e sta su si chiama Gianluigi Balarani Talks lo cambierò lo chiamerò ggb come lo chiamerai ggb talks ggb talks ma forse tengo Gianluigi Balarani Talks in italiano e metto ggb talks in inglese quando prima o poi inizierò a fare i controlli in inglese ma l'hai iniziato una volta si ho iniziato poi l'ho fermato perché non c'avevo tempo non c'avevo tempo per farli in italiano figurati in inglese e poi sembra una cavolata guarda che sto aspettando la fine del live per l'acquista adoro eccolo qui comunque è facile creators.academy cioè più facile di questo non si può impari da zero sì impari da zero le facebook gg nasc gg nasc cosa è gg nasc sì impari da zero a fare le facebook cosa stavi a dire Nico scusami cosa stavi dicendo niente che mi stanno arrivando i messaggi sulle con le persone che stanno comprando dicono grande così fantastico ho fatto un paio di stories poi ho fatto le q&a poi ci sono le q&a su creators ragazzi ce n'è non siamo qui per nascondere niente infatti facciamo le live apposta se avete delle domande siamo qui apposta per rispondere e se vi fate un pochettino il conteggio è meno del costo di diciamo un caffè meno di un caffè al giorno no meno di un caffè al giorno però diciamo di caffè e sigarette è meno di un caffè al giorno effettivamente cioè è effettivamente caffè e sigarette al giorno cioè meno di un caffè al giorno per un anno è così assoluto sì no ma il caffè e sigarette veramente è il costo mensile di questa focus class che metterà il turbo a tutto ciò che avete realizzato praticamente ragazzi tutti i vostri rubi così tutte le domandine che leggo in giro tra scalers tra billionaire spariranno così le domandine le lasciamo al bonnello finalmente tutte quante sulla parte tecnica delle creative dell'UX dell'OI così tutte le vie spariranno poco meno di un litro di olio ok specialmente il mio che lo è di 21 su Clubhouse appaio no c'era c'era un un nostro amico in chat che diceva cioè aveva come come metro di misura le gole ad or se ci fanno un attimo il conto di quante gole ad or sono le gole ad or sono tutto ragazzi meno di 2500 gole ad or ma perché dovete dire queste cose compromettenti va su chat rulletto vabbè ragazzi comunque tanta roba sono contento che ci siamo rifatti le live mi mancavano le live veramente mi mancano le live noi siamo mancati a loro erano belli attivi stasera sì 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 beh comunque meno del solito oggi perché non ho mandato non abbiamo mandato telegram non abbiamo mandato email non abbiamo mandato neanche le storie su instagram solo i fedelissimi c'erano oggi va bene ragazzi si dicono è bassa clubhouse tutti su chat rulletto ci vediamo su scalers tanto scalers io ho sempre la chat aperta perché ormai io su discord abbiamo messo tutte le nostre aziende quindi io ho sempre discord aperto h24 quindi io leggo sempre le cose che scrivete h24 chiudo con con il detto vai 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 ragazzi se non vi scrivete alla focus class dopo non dite che l'acqua è poco e a papero non galleggia chi vuol chi vuol sapere sa chi vuol sapere sa l'acqua è poca a papero non galleggia che vuol dire nello dai traduci nello dai dopo non lamentarti che non ci sono risorse per far per far galleggiare la papera hai capito che c'è poca acqua per far tenere la papera a galla ok ok ci sta ci sta mi piace mi piace tra l'altro volevo dire una cosa ma me la so ah ragazzi purtroppo ho ascoltato sto arrivando ora si ho visto ho visto su scalers siamo per fare la live su scalers ma già sei in video già sono in live ho scritto improvviso ah ecco di qui già sei in live stiamo arrivando su scalers stiamo arrivando anche su scalers aspetta che ti condivido qui voglio far vedere come ce la stiamo vivendo noi su scalers siamo entrambi siamo entrambi le parti allora aspetta che te lo condivido ragazzi un attimo vi faccio vedere come funziona scalers eccolo qui guardate che inception siamo sia le qua che di là adoro questa cosa questo è scalers vedi abbiamo tutti i nostri davide ovunque davide ovunque scalers così possiamo parlare un pochettino di questa focus class riservata per gli imprenditori a prezzo speciale per tutti coloro che fanno parte di scalers guardate di domande preparate le domande che questa sera facciamo un after party solo su questo fantastico è bellissima questa cosa vabbè vedete queste qui sono l'headquarter di tutte le nostre aziende ce le ho tutte qui praticamente e qui ho scalers scalers house che poi scalers house io non sapevo c'era club house che giustamente anche loro sono ispirati da so house hanno copiato il nome anche da là allora vabbè fammi togliere il doppio nico cosa stanno dicendo qui la paper affonda vado su scalers tiene la maschera e il boccaio di chi state parlando la paper della paper ah la paper voglio dire un'altra cosa che mi sono visto questa diretta di Elon Musk con Joe Rogan tre ore sono arrivato un'ora e mezza e manca un'altra ora e mezza e sono arrivato alla parte in cui Elon Musk dice che dorme sei ore a notte quindi come se non dormissi abbastanza ho iniziato anche io a dormire sei ore a notte quindi invece di sette ora dormo sei ore a notte quindi vi faccio vedere la mia sveglia giorno notte eccolo qui in esclusiva per Twitch vedi mi vado a dormire due e venticinque mi sveglio alle otte e trentatré sei ore e otto minuti due ore di deep sleep che ottimo ah pure Nella è andato live su scalers ormai è partita ormai è partita raga ok vabbè volevo farvi vedere le ore a notte allora ragazzi ci vediamo di là aspetta vi faccio vedere dove stiamo andando eccoci qui c'è pure c'è pure Nello c'è pure Nellino Nellino scalers ciao ragazzi vvb vvggb ggb ggb va bene ok ok noi stiamo facendo di tutto per per fare qualcosa di grande buonanotte ragazzi ci vediamo su scalery ciao